Ha dovuto attendere tre lunghi anni, ma finalmente il verde mare riapre le porte e Felice Chiesa è di nuovo contento. Che cosa rappresenta il verde mare per Felice Chiesa? La mia vita. E la difesa fino in fondo? Fino in fondo, la mia vita, veramente, la mia vita. E con quale coraggio riparte oggi? Con quale coraggio? Parto perché ci credo. E per tutti i messaggi che ho avuto di solidarietà, di amicizia, di conforto, eccetera. Quindi non teme che dopo tre anni possano mancare anche le persone? Quest'anno è già stabilita una rimessa, sicuramente. Ma io penso che un altro anno, ven o male, ritornerà il verde mare. Fiducia quindi? Tanta. Io sono sempre stato fiducioso. Quindi Felice di nome e di fatto. Esatto. Pochi giorni ancora, il 10 giugno, e Felice Chiesa riabbraccerà tutti.